Con Topolino numero 3580 arriva la quarta parte delle figurine dell'album di Paperino dedicato ai suoi 90 anni. Andiamo quindi a vedere quali figurine erano abbinate alla copia di Topolino e soprattutto andiamo a vedere alcune operazioni di attaccaggio delle stesse. Anche perché nelle buste ci sono state alcune figurine che mi hanno fatto, diciamo così, penare e non poco. Grazie a tutti. La prima è la figurina tratta dal numero 0 di Pick Up ANA in cui Paperino entra nel piano nascosto. Alla fine sono proprio soddisfattissimo del risultato, anche se la maggior parte delle linee del disegno sono, o almeno appaiono, precise. Le altre figurine che mi hanno fatto in un certo senso sudare sono state quelle relativi al Paperino che sta cucinando le frittelle. In questo caso però, essendo figurine doppiere, è importante attaccare bene la prima figurina, quindi ho fatto diverse prove. Alla fine, il risultato finale delle due messe insieme, diciamo che mi soddisfa molto di più rispetto alla figurina di Pick Up ANA. Per completare l'album adesso mancano soltanto le figurine abbinate a Paperino 529, che spero di riuscire a ritrovare perché è successo un inconveniente con la mia edicola di fiducia, che forse da adesso in poi potrebbe non essere più la mia edicola di fiducia. Ma questo è un altro discorso. Sperando quindi che questo problema riuscirò a risolverlo, non è che, come al solito, invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere la tisica su tutti i nuovi video caricati. Scusate a tutti!